Dai, rallenta! È tardi. Lo stomaco, Mike, mi serve una bibita. Prendi solo una bibita e nient'altro. Gli hot dog sono freschi. Ce li ha messi ieri. Dammene uno, riempilo di salsa, quel bastardo. Apri la cassa. Fermo! Sono Skittles, Marcus. Sì, ma non sono mie. Sono su e... Sta zitto! Marcus, in macchina. E punta una pistola alla testa. Vuoi vedertela con lui o con me? Scusi, signore, ma devo andare. Chiama il 911. Siete voi la polizia? Reggi, hai mangiato i miei snack? No, signore. Li hai mangiati tu, però. Devi trovarti un lavoro. Sono un marina, signore. Devi farti mandare missione. Papà, guarda. Ora abbiamo le prove che il defunto capitano Conrad Howard della polizia di Miami ha lavorato con i cartelli della droga per anni. Stanno incastrando il capitano Howard. Andiamo. Che diavolo è? Ci manda messaggi dall'aldilà. Ma figurati, Marcus. Se mi vedete probabilmente sono morto. Cazzo! Stronzi, fotteteli tutti! Non so a che livello sono arrivati, ma non fidatevi di nessuno. Siete i miei bad boys. Scagionatemi. Fate attenzione. Mi stanno intrappolando, detective. Abbiamo due sospettati. Lauria Burnett. Armati e pericolosi. in cinque, quattro, tre. No! Il liquido dei tempi cristalli è ingiammabile! Mica sono uno scienziato! Voi siete dei pessimi fugitivi. Guarda qua! Ti serve mai chi è il cattivo, bad boy! Ti penso io! Però non lo sai! Ehi, Mike, siamo anime gemelle. No, la mia anima gemella non ti somiglia per niente. Sei bloccato nel mondo fisico. Le anime non hanno il pisello. Sono sicuro che la mia anima ce l'ha, il pisello.